ciao ragazzi ciao ragazze bentornate sul mio canale questo video all mini video all perché ho preso solo due cosine ma mi piacevano mi ispiravano veramente tantissimo il brand in questione è mulac e vi faccio subito vedere cosa ho acquistato da mulac ero molto tentata veramente di acquistare questo illuminante in gocce di mulac omg si chiama nella colorazione gold e vi faccio vedere subito lo swatch il pack è questo andiamo un attimo ad agitarlo perché essendo in gocce andiamo vi faccio vedere subito com'è ragazze basta veramente poco basta pochissimo guardate via la cia questa è la magia di illuminante liquido mulac mi piace tanti si è già asciugato ragazzi tra l'altro e questo illuminante mulac quello color oro perché non c'è in tre tonalità allora abbiamo il gold abbiamo il rosa e abbiamo il bronzo il bronzo per la mia carnagione non è indicato perché è troppo scuro il gold e questo è rosa essendo io già con un sottotono rosato e già tendo andare a contrastarlo scusatemi poi ho già questo di chico preferivo un gold un color oro che poi non è neanche cioè non è fortissimo poi comunque andiamo a picchiettarlo con il culetto della blender e quindi ma guardate che luce proprio effetto bagnato mi piace tantissimo non vedo l'ora di provarlo e poi il secondo prodottino che ho acquistato è stato un altro olietto che ha creato un mulac ha sfornato e si chiama e si con dentro è un olio illuminante con dentro le foglioline d'argento ve lo mostro che è questo a differenza di questo che più un olio illuminante vedete con le foglioline d'argento questo è un olio anti età è un olio anti età e ha un po dall'apertura di 12 mesi e quanti ml sono sono 9 mi sembra ml si ed è fatto di fiori ragazze ci sono dentro tutti guardate che spettacolo ragazze è bellissimo e questo è un olio anti età quindi ero proprio ed è un idratante viso appunto anti gel 100% naturale di origine naturale ha una profumazione di fiori ragazze che mi ricorda qualcosa sapete cosa mi ricordano i purpurid non so se avete presente quei cosi secchi i petali secchi quelle cose mi ricordano i purpurid è buonissimo comunque devo ancora provarlo è un olio anti età lo devo portare in bagno perché non lo metto prima del fondotinta si può mettere anche prima del fondotinta ma io vorrei proprio applicarlo come skin care perché essendo anti età preferisco usarlo come skin care mentre l'altro olio che è illuminante preferisco usarlo scusatemi la tosse preferisco usarlo in postazione prima magari del fondotinta per dare un effetto più glow alla pelle ma questo invece proprio un olio più trattante ecco e niente ragazze comunque bellissimo anche peccato usarlo vi dico la verità vi dico la verità questo mi sa che adesso lo porto in bagno perché l'ho lasciato poi in postazione per fare questo video e niente spero che questi due prodottini vi siano piaciuti è un piccolo video ma ci tenevo a farveli vedere perché questa appunto è una novità in casa mula che l'ho pagato intorno ai 10 euro perché era in offerta lancio adesso non so se ancora in offerta lancio perché non so quando il video verrà pubblicato e questo qui invece c'è sempre c'è permanente in linea permanente penso che anche questo resti in linea permanente comunque a me questi due prodotti ragazzi fanno impazzire veramente cioè mi piacciono da morire spero che questo video vi sia piaciuto ragazze se vi è piaciuto e non siete ancora iscritti al mio canale iscrivetevi qua iscrivetevi al canale giù sotto dovete iscrivervi eh non su qui iscrivetevi al canale attivate la campanellina condividete questo video sui vostri social vi invito a venire a trovarmi su instagram e sulla mia pagina facebook vi lascio tutti i link giù sotto nell'infobox e a venire a trovarmi sul mio nuovo gruppo che ho creato per noi youtubers youtubers aiutiamoci a crescere vi aspetto anche lì vi lascio il link sempre giù sotto nell'infobox così se avete voglia e vi volete iscrivere per aumentare gli iscritti del vostro canale e postare i vostri video potete venire tranquillamente anche lì vi mando un enorme bacione e ci vediamo al prossimo video ciao